Oltre all'assistenza, da oggi l'Ufficio Informazioni Turistiche di Piazza Celestino V offre un altro importante servizio ai visitatori, o meglio, da loro un motivo in più per conoscere Sernia o per trascorrere in zona il proprio tempo libero. Grazie alla Carta del Turista, concepita grazie a un'intesa tra le Acli, la Provincia, il Comune e la Camera di Commercio, sarà possibile ottenere sconti e agevolazioni nelle attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa, negli impianti sportivi, nei centri benessere, al cinema o al teatro. La carta sarà consegnata gratuitamente a coloro che si rivolgeranno all'Ufficio Informazioni. Il turista viene nell'Ufficio Informazioni del Comunale, riceve la carta del turista gratuitamente e appunto esplorando la città, non solo nella parte antica ma anche nella parte nuova di Sernia o il suo Interland, lì dove riconosce il marchio, la carta del turista, quindi lì dove riconosce il locale convenzionato con questo sistema, con questa rete, può ottenere delle agevolazioni, degli sconti, dei vantaggi. È una maniera per accogliere il turista, il turista che arriva, riceve questa card, si sente in qualche maniera ben voluto, ben accolto. È una buona prassi turistica che già funziona altrove, chiaramente non ci siamo inventati nulla, semplicemente è una di quelle famose best practices che funzionano altrove e le trasferiamo nella nostra città che si sta preparando per affrontare la stagione turistica. Siamo a febbraio ma noi contiamo già a marzo-aprile di aver messo a punto completamente i servizi di accoglienza del turista.